In appena otto mesi erano riusciti a derubare 17 anziani raggirandoli con la tecnica della telefonata da parte del finto avvocato del finto maresciallo che chiedeva soldi per risolvere una situazione grave in cui si era cacciato un figlio o un nipote. Una banda di cinque nomadi residenti tra le province di Treviso e Pordenone andranno a processo il prossimo 12 novembre per tuffa aggravata in concorso. L'inchiesta era stata condotta dalla procura di Padova. Gli ultraottantenni raggirati tra l'agosto del 2022 e il febbraio del 2023 vivevano tra le province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Il colpo più grosso ai danni di un 82enne di Montebelluna da cui si erano fatti consegnare con l'inganno quasi 60.000 euro tra contanti e gioielli. I colpi anche a Padova dove ad un'anziana avevano rubato 40.000 euro e poi Asolo, Fonte, Riese, Pio Decimo, Pieve del Grappa, Pederobba, Spinea, Romano Dezzelino, Bassano e Rossano Veneto. L'indagine della procura di Padova era partita dopo una truffa commessa a Vigonza ai danni di un 87enne che aveva consegnato soldi e gioielli per salvare un nipote coinvolto in un fattomatico incidente. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei nomadi sono stati ritrovati molte preziosi rubati e documenti di orologi di valore. Grazie a tutti.